Buonasera a tutti. Siamo alla quadrata 2017 in compagnia di Marco Benedetti. Buonasera. Buonasera. Ci vuole parlare di lei? Certo. Buonasera a tutti. Sono Marco Benedetti. Sono un pittore, un artista autodidatta. Ho cominciato a dipingere quasi per scherzo nel 1985. Ho fatto diverse mostre personali. Ultimamente, in questi anni qui, sto concorrendo anche ad alcuni concorsi, tra cui quella del Menograno, della quadrata, edizione 2017. Mi sono presentato a questo concorso con Sirene della Notte, che è un quadro che fa parte del filone dell'Arma dei Carabinieri. Sono 24 opere e queste opere, il mio sogno è quello, praticamente, di fare una mostra personale e devolvere tutto il ricavato, praticamente, agli orfani e alle vedevoi dei carabinieri. Tutte le mostre che faccio io, di solito, il filo evoluto viene sempre da più beneficenza. Ecco, questa è la mia storia. Bellissimo. La ringrazio e arrivederci a presto. Buonasera, grazie a voi.